Progodinister Mila nel mercato 2017 con i dirigenti Fassone Mirabelli, grazie ai soldi di Yongoli, fanno 11 acquisti ed è celebre la frase che passerà alla storia come passiamo alle cose formali e comprano Bonucci, Kalnic, Andresilva, Chessy, Biglia, Cialanoglu, Musacchio, Andrea Conte, Riccardo Rodriguez, Borini e Antonio Donnarumma, di questi 11 dopo passati 5 anni non c'è neanche più uno alla corda del Milan, la Juve compra De Sciglio, Bernadeschi, Douglas Costa e Cesni, l'Inter alla fida la panchina e Spalletti compra Scrinier, Borja, Valero e Vessino, alla Roma in panchina arriva Di Francesco e compra Kolorov e Schick, ma vanno via Rudiger e Salah che vanno a giocare in Premier League, novità da quest'anno tornano 4 squadre ad andare in Champions, tutti diretti senza preliminari, gli addio agli abitri di porta, arriva il VAR ovvero come diceva Biscardi, la moviola in gambo al debutto la Juve vince 3-0 col Cagliari e nella prima partita c'è subito il primo intervento del VAR, dato rigore alla squadra sarda, parato però da Buffona il Napoli vince 1-3 col Verona, l'Inter vince 3-0 con la Fiorentina il Milan vince 0-3 a Crotone, la Roma vince contro l'Atalanta per 0-1 il Milan di 11 a cui si non ingrana e perde 3 partite nelle prime 7 giornate contro Lazio, Samp e Roma mentre chi comanda è il Napoli che dopo 7 giornate è a 24 punti con 7 vittorie consecutive contro Atalanta, Bologna, Benevento, Lazio, Spal e Cagliari e a meno 2 c'è l'Inter di Spalletti e la Juve all'ottava giornata la Juve perde 1-2 con la Lazio con 2 piette di Immobile e va a meno 5 della vetta perché il Napoli fatto su 8 vincendo 0-1 contro la Roma con gol di Lorenz di Signa, l'Inter vince il derby della Madonina per 3-2 con la tripetta di Cardi e rimane a meno 2 la donna giornata a primo stop è il Napoli che pareggia 0-0 con l'Inter ne approfitta la Juve che vince con un punteggio tennistico 2-6 contro l'Udinese e va a meno 3 all'undicesima giornata la Juve vince 0-2 col Milan con la doppietta di Higuain ma rimane a meno 3 dal Napoli che vince contro il Sassuolo alla dicesima giornata la Juve dopo la vittoria per 2-1 col Benevento aggancia l'Inter pari contro il Toro e va a meno 1 dal Napoli che pareggia 0-0 col Chievo la Roma vince 2-4 con la Fiorentina, il Milan vince 0-2 col Sassuolo, la Lazio vince 3-0 contro l'Udinese dopo 2 giornate il Napoli 32, Juve-Lazio 31, Inter 30, Roma 28 poi c'è la pausa per le nazionali dove l'Italia dopo il Mondiale del 58 per la seconda volta nella sua storia non si qualifica ai mondiali uscita il playoff contro la Svezia dopo l'1-0 in terra svedese si pareggia in casa a San Siro perciò a fine match Ventura dalle dimissioni arriva come citita nazionale Roberto Mancini ma ritorniamo al campionato dopo l'ascolzione mondiale Napoli vince 2-1 col Milan e rimane prima in classifica e va a più 4 sulla Juve che perde 3-2 con la Samp e a più 4 sulla Lazio che perde il derby capitolino per 2-1 così l'Inter torna al secondo posto perché vince contro l'Atalanta per 2-0 alla quattordicesima giornata il Milan dopo il pari 0-0 col Toro viene generato a Montella e arriva in panchino Gattuso promosso dal tecnico della primavera al tecnico della prima squadra intanto in questa giornata vincono Inter-Napoli e Juve pari per le Romane al debutto sulla panchina del Milan Gattuso si fa raggiungere il barra Beffaro sul pari a tempo scaduto del Benevento che pareggia 2-2 al virgolito con gol del portiere Brignoli di Testa primo punto in Serie A per il Benevento intanto cambia il padrone in Vetta l'Inter vince 5-0 col Chievo mentre Napoli perde il big match con la Juve 0-1 con un gol dell'ex Iguain Inter ha più 1 sui partono Pei alla sedicesima giornata doppio pari 0-0 tra Juve e Inter e Napoli-Ferentino nulla cambia in Vetta intanto prima vittoria per Gattuso 2-1 contro il Bologna alla dicesettesima giornata cambia il vertice l'Inter perde a San Siro 1-3 coludinese Napoli vince con lo stesso punteggio contro il Toro e torna in Vetta ha più 2 sui nerazzurri la Juve vince contro Bologna poi l'Inter in caduta libera perché perde anche col Sassuolo e Napoli vince e va più 5 contro la Samp per 3-2 intanto la Juve vince contro Roma per 1-0 e va al secondo posto in solitaria il Milan di Gattuso comunque è molto discontinuo perché perde contro Verona e Atalanta alla diciannomesima giornata il Napoli vince a Crotone per 0-1 con un gol di Mare Kamsik e si lavora a campione d'inverno la Juve vince a Verona per 1-3 pari tra Inter e Lazio e Fiorentina-Mila al giro di Boi Napoli 51, Juve 50, Lazio 43 Inter 42, Roma 40 nel mercato infernale l'Inter compra Alessandro Lopez e Rafinha la Roma vende Emerson Palmieri alla ventesima giornata continua il duelo in vetta dove il Napoli vince 2-0 col Verona e la Juve vince a Cagliari per 0-1 altro pari per lì la Roma perde contro l'Atalanta la Lazio vince 2-5 con la Spal il Milan vince 1-0 col Crotone col primo gol in rosso-nero in apionato di Leonardo Bonucci dalla ventunesima alla ventisesima giornata la Juve e Napoli fanno 6 vittorie consecutive entrambe perciò tutto rimane invariato in vetta in Mina si rialza vincendo contro Lazio e Sampo e Roma e si porta in zona Europa alternante il percorso dell'Inter alla ventisesima giornata la Juve vince l'Olimpico 0-1 contro Lazio con gol di Dybala e va più 2 sul Napoli che perde 2-4 col a Roma ma il giorno dopo la domenica non si gioca tutto rinviato per la morte del difensore centrale della Fiorentina Davide Astori a soli 31 anni che il mattino del 4 marzo 2018 viene trovato morto nella stanza del Bergo non si è ancora capito ancora ad oggi il motivo della sua morte comunque tutte le partite domenicali verranno rinviate per lutto il campionato riparte la settimana dopo nel ricordo di Astori la Juve vince a lunga vincendo 2-0 col Odinese con doppiazza di Dybala e va più 4 sul Napoli che pareggia il big match contro l'Inter per 0-0 la Fiorentina nella prima partita senza il suo capitano vince 1-0 col Benevento con gol di un altro centale ovvero gol di Vito Rugo alla ventunesima giornata la Juve pareggia 0-0 con la spalla e Napoli va a meno 2 della capolista vincendo 1-0 col Genoa con gol di Raul Albiol vittoria per Roma Inter e Milan alla trentesima giornata nel sabato di Pasqua la Juve vince 3-1 col Milan inutile il gol del pari momentaneo dell'ex Bonucci e va più 4 sul Napoli che pareggia 1-1 col Sassuolo vittoria per Lazio Inter e pari per la Roma alla trentaduesima giornata la Juve vince 3-0 con la Samp e va più 6 sul Napoli fermato sul pari 0-0 col Milan Almeazza pari 0-0 anche nei derby capitale e tra Inter e l'Atalanta dopo 32 giornate Juve 84 Napoli 78 Roma e Lazio 61 Inter 60 Milan 53 alla trentatresima giornata la Juve pareggia Crotone per 1-1 e il Napoli accorce andando a meno 4 da Bianconeri vincendo 4-2 coludinese alla vigile del Big Match alla trentaquattresima giornata Big Match allo stadio in Juve-Napoli dove viene vinto dei partono paid per 0-1 sul filo di lana con gol di Koulibaly al novantesimo minuto di testa sul calcio d'angolo e va meno 1 dai Bianconeri campionato riaperto intanto vittoria da Champions per Lazio Roma e Inter alla trentaquattresima giornata la Juve vince 2-3 il derby d'Italia contro l'Inter a San Siro con un match fatto di emozioni e ribaltamenti di fronte alla fine della decise dei guai di testa il Napoli giorno dopo perde a Firenze per 0-3 come dice come ha sempre detto poi Sare è stato uno scudetto perso in hotel perché giorno dopo con la testa piena di pensieri perde 3-0 contro la Fiorentina contro il petto del ciolito Simeone e la Juve va a più 4 sui partono paid a 270 minuti dalla fine alla trentasesima giornata la Juve vince 3-1 col Bologna e va a più 6 sul Napoli che pareggia 2-2 col Toro ma non è ancora automaticamente campione d'Italia alla trentasesima giornata ai Juve basta un punto contro la Roma per lavorarsi campione d'Italia e così è finisce 0-0 e perciò i bianconeri vincono il suo trentaquattresimo scudetto il settimo di fila al record con una giornata in anticipo quinto scudetto per Allegri quarto bianconero superato a Conte che ne va a 23 all'ultima giornata l'Inter vince lo scontro diretto per andare in Champions all'Olimpico per 2-3 dove i nerazzurri vanno in Champions classifica finale Juve 95 campione d'Italia Napoli 91 Roma 77 Inter Lazio 72 Milan 64 e Atalanta 60 in Champions vanno Juve Napoli Roma e Inter in Europa League vanno Lazio Milan Atalanta in Serie B vanno Crotone Verone Benevento capocannonieri Icardi e Mobile con 29 gole debutano in Serie A Cialanoglu Douglas Costa Simeone e Barac mentre lascia la Serie A Claudio Marchisio Paso Suggestionieri l'A L'A